Migliorano i numeri dei contagi nei comuni vesuviani. Nel comune di Torre del Greco, secondo il bollettino di venerdì sera, si sono registrate 17 nuove guarigioni, certificati invece 9 casi di positività. Continua a mutare dunque il bilancio dei contagiati, con 85 attualmente positivi, di cui 9 ospedalizzati. Nel comune di Torre annunziata sono stati registrati 13 nuovi casi di contagio nelle ultime 72 ore, a fronte di 228 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 5,70%. Al contempo si registrano 15 guarigioni ed il decesso di un uomo di 88 anni. L'amministrazione comunale, afferma il sindaco Vincenzo Ascione, partecipa commossa al dolore dei familiari della persona scomparsa ed esprime loro le proprie condoglianze. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 48.177. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 21.706, 52%, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 26.471, il 64%.